Un amico mi racconta che quando era un ragazzino aveva un amico montanaro e tutte le stati si vedevano durante le sue vacanze d'estate quando saliva con i parenti e poi dopo un'estate basta, non si sono più visti. E allora mi dice Massimo perché non ci siamo più visti? Sai che non lo so. Ecco intorno a questa domanda ho costruito il romanzo.